ciao sono il dottor max in questo video ti spiego quali sono i benefici della gol puntura per l'infertilità la gol puntura è una pratica della medicina tradizionale cinese che comporta l'inserimento di agli sottili in punti specifici del corpo per stimolare varie funzioni fisiologiche molte persone considerano la gol puntura come un complemento alla medicina occidentale per il trattamento dell'infertilità tuttavia è importante notare che la ricerca scientifica sull'efficacia della gol puntura per l'infertilità è ancora in corso e i risultati sono misti ecco alcuni dei potenziali benefici associati alla gol puntura per l'infertilità riduzione dello stress la gol puntura può aiutare a ridurre lo stress e l'ansia che possono influenzare negativamente la fertilità lo stress cronico può influire sul ciclo mestruale e sull'ovulazione miglioramento del flusso sanguigno lago puntura può migliorare il flusso sanguigno uterino il che potrebbe favorire una migliore salute dell'utero e dell'edometrio rendendo l'ambiente più favorevole all'impianto dell'ovulo fecondato regolazione del ciclo mestruale alcune donne hanno riscontrato un miglioramento nella regolarità del ciclo mestruale dopo il trattamento con la gol puntura un ciclo mestruale regolare è importante per l'ovulazione miglioramento della qualità degli ovociti anche se le prove sono limitate alcune ricerche suggeriscono che la gol puntura potrebbe contribuire a migliorare la qualità degli ovociti miglioramento della risposta alla stimolazione ovarica in alcune donne sottoposte a trattamenti di fertilità come la fecondazione in vitro fiv la gol puntura potrebbe migliorare la risposta ovarica alla stimolazione ovarica riduzione degli effetti collaterali la gol puntura può aiutare a ridurre gli effetti collaterali negativi dei trattamenti di fertilità come il disagio e l'ansia associati alle procedure tuttavia è importante sottolineare che gli studi sull'efficacia della gol puntura nell'aumentare le possibilità di concepimento sono ancora in corso e i risultati sono variabili l'infertilità è una condizione complessa con molte cause possibili e la gol puntura potrebbe essere più efficace per alcune persone rispetto ad altre se stai considerando la puntura come parte del tuo piano di trattamento per l'infertilità è essenziale consultare un professionista esperto e qualificato in a gol puntura inoltre dovresti discutere con il tuo medico di fertilità per garantire che la gol puntura sia appropriata nel tuo caso e che non interferisca con altri trattamenti che potresti stai ricevendo la comunicazione tra il tuo team medico e la gol punturista è fondamentale per garantire una cura completa e coordinata grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video che puoi commentare raccontando le tue esperienze offrendo un servizio utile alla comunità buon proseguimento ci vediamo alla prossima domanda esaminata